Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Dragon Ball Xenoverse, io sono TtD e oggi andiamo avanti con la storia principale, finalmente abbiamo le missioni che ce le danno Wiss e Bills, andrei subito, sentiamo un po' Allora, i conclusi preparativi sì, sono pronto, sono già pronto, sono potenziato, sono alla massima potenza, molto bene, allora andiamo, allenamento, il capriccio di Wiss, dobbiamo sconfiggere Wiss, credo che sia da solo, ma, ah no, sono con Bills, ok, interessante, è molto interessante, vieni qua, Wiss, ciao Ehm, Bills, lo sto, niente, sempre, sempre a rompere i coglioni, ma, basta, Bills, Billsamba, basta, oh, e vabbè, in più si mette a schivare anche lui, ragazzi, è il momento delle combo lunghissime, no, ho missato, vabbè, andiamo, vieni qua E che palle però, non puoi sempre scappare, eh, poi ovviamente mi becchi così, no, no, beccati questo, beh, no, ce la devo fare, prima o poi ce la farò No, non ce l'ho fatta però con la cammea, no, de, 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 Wiss, vai via, Bills, fai qualcosa, eh, vabbè, fottiti Bills, sei sempre inutile, aia, aia Beccati questo, carichiamo, diventiamo anche super sempre E usiamo anche intrattenzione che ci ripristina tutta l'energia Ah, mi hai fatto male, Wiss Ma non ce la farò mai a tirare sto calcio, Mac, eh, io ci provo Oh, vieni qua, Wiss, vieni qua, Wiss, dove vai? Beccati questo Ti faccio volare un po', Wiss No, di poco Eh, ma dai, non puoi sempre farcela, Wiss Aia, grazie Posso fare entrate in azione? No, non me la lascerà mai fare, vero? Beccati questo, Wiss, vola via un po', va? Levati un po' dalle valle che devo fare entrate in azione io Un'altra, ok Devo, devo migliorare quella mossa, è l'unica mossa che, che ho per il potenziamento, cioè potenziamento Per ricaricare il vigore, solo che è una merda Wiss, basta No, ho sbagliato tasto, aia, aaa, fai male Andiamo con una, aia Volevo usarla, però mi ha già ritolto l'energia che ho acquisito Aia, 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 aia Wiss, basta Basta, hai rotto il cazzo Hai rotto il cazzo Eh sì, lanciami le sferette, vaffanculo, ma non è valido Beccati questo Cadi sempre nella trappola, eh Ok, era il tempo Aia, mi hai fatto male Eh, beccati questo Beccati questo No, oh, non ce la faccio Vabbè, te la carico tutta Vieni qua Fanculo, Wiss, come osi Ok che sei un angelo Però, non devi rompermi i coglioni Beccati questo Eh, ovviamente, la schifo Non chiedo molto Una kamehameha O il calcio mecca Almeno uno Oh, l'ho beccato L'ho beccato Ha fatto cagare Però l'ho beccato Sono felice Ora posso anche perdere Ovviamente non perderò Però posso anche perdere Finalmente l'ho beccato Beccati questo No Madonna, sto bastone Te lo fico super il culo, Wiss E io Io te lo dico Cioè, se vuoi ci provo, eh E vieni qua Oh, finalmente È il nostro momento Ma io non ci voglio credere Aia, mi hai fatto male Beccati questo Sti calci Boom Ce l'abbiamo fatta Ok, abbiamo fatto l'allenamento Finalmente Ti senti meglio, va bene Ah, è uno scarabocchio di Wiss Ok Ok Eh beh, mentre torniamo a casa Ci fermeremo a prendere del sushi Dove? Quella è la domanda più Dove lo prendi il sushi? Va bene Ah, ok Quindi ti levi dalle balle È stato divertente Te ne vai via O tornerai Ok 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 Già Chimi mo genki de ne Ciao ciao, Wiss Ciao ciao, Wiss E Bills anche Ciao ciao Agora Oh, Toki Toki Cosa c'è Toki Toki Ah no, se ne vanno Ok Wow Beh, devo dire che nell'anima È fatta meglio L'animazione, sinceramente Ne siamo sicuri che Siano a corto di opzioni In effetti In effetti Chi è rimasto? È rimasto Vediamo, eh Freezer Cell Li vanno a prendere da altre timeline Possono, diciamo Ok Difenderemo la storia È ovvio Ma Giusto Giuro che la pagheranno Tu giuri Però alla fine Siamo io e Trunks Cioè Quindi In effetti No Perca paura di Bills Ok Cos'è successo Stavolta Ci scommettiamo che Nel giro di tre secondi Una pergamena Diventa Diventa strana Ne sono sicuro Ne sono sicuro Cosa dovremmo fare? Oh Bardak Ok La sua mente Fosse tenuta Sotto controllo Boh 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 Ci sta come piano Catturarlo Sentiamo, eh Non è che dobbiamo andare Alla distruzione Cioè All'epoca della distruzione Del pianeta Vegeta Ok Mettiamoci all'opera Va bene Ok Vieni con me Trunks Ok Ok Ma dove? Sì La mia supposizione Era esatta La distruzione Del pianeta Vegeta Quindi Questo dovrebbe essere L'episodio speciale Di Bardak Vediamo, eh Vabbè Qua muore Poverino Ok Va bene Mire Toa Eccoli qua E noi siamo dietro Ok Quindi è successo qualcosa Durante la distruzione Del pianeta Vegeta Perfetto Perfetto Lo sappiamo almeno Era Era Punti interrogativi Ok Ero già pronto a leggere 700 qualcosa La terra Cosa Sembra Sembra che abbiano usato Un buco nero Per catturare Bardak Un buco nero Vabbè Sì Mi ricordo Mi ricordo il futuro Di Trunks Sinceramente A me Ciao Venuto a rompere i coglioni E vabbè E vabbè Ancora Ma beccati questo Eeeh La combo intera Carichiamoci Diventiamo subito Super Saiyan E sconfiggiamo Bardak Andiamo Dove sei Bardak Vieni qua E vabbè Trunks Sempre Io ti odio Trunks Oh Beccati questo Bardak No Non osare Ok Come ma Inco Ciao Anche qua te Perfetto Sempre a rompere i coglioni Però io ero Super Saiyan 3 Non capisco Perché mi tolgono Sempre il Super Saiyan Ma lasciatemi Su Saiyan Sono qua Voglio solo combattere Invece no Sempre normale Il ritorno Andiamo No Non usare Cazzo Non ho più energia Aia E vabbè Ce la fa Per forza tutta Aia Beccati questo E Capò Perfetto Dove sei Mira Arrivo Mira Arrivo un attimo Perché qua Non posso fare niente Ok andiamo ora Eh si vabbè Non toccare Trunks Poverino So che è handicappato Ma Eh Combatti contro di me Combatti contro Un avversario forte Serio Ovviamente da dietro Ovviamente da dietro Che strano Tutti che hanno gli occhi Di dietro Beccati staccamo a me Mira Grazie Trunks Beccati questo Mira Vola un po' E vabbè che cazzo Vieni qua Un po' di calci Va Eh si va bene Ma non tirare nessuno D'energetica Eh vabbè Oh basta scappare Ok Ce l'abbiamo fatta Perfetto Eccolo qua Bardak Ancora Combattimento Oh Buco nero Ha un ultimo ascio Nella manica Nello spazio Infradimensionale Bel piano Bardak Mi sa di si eh Grazie Bardak Grazie mille Grazie mille Grazie mille Wow Cioè praticamente si è Cioè Si è vendicato Ma si è suicidato Praticamente nel farlo Ok Poverina Si è incazzata E chi hai? Oh cazzo E' l'eroe No Manipolazione Sconfiggi l'eroe Va bene ragazzi In questa battaglia Daremo il cento per cento Anzi Il duecento per cento Sarà difficile Già me lo sento Cazzo Cazzo Vabbè non ha molta vita Almeno È normale Normale Dai Beccati questo Ah ma c'è anche Toa No Non usare Beccati la camera Mamma mia Mi dispiace Menarti Alla fine Sei uno dei miei personaggi Mi dispiace un casino Menarlo Aia Eh che cazzo però Vieni qua Sì bravo Beccati un po' di botte Oddio Aia 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 E vabbè Oh Ma quanto fai male Ho fatto una cagata Eh va bene Tu da dove vieni Vabbè Era Era andato in culonia Me lo becco dietro Va bene E basta Oh Beccati questo Cannone dell'anima speciale No Non ce l'abbiamo fatta Vieni qua Eh che palle Non riesco a trasformarmi Non mi lascia caricare l'energia Vabbè Meniamolo fino alla fine Mi dispiace Eh sì vabbè Ma basta Basta Non puoi essere il primo Eh va bene Ok Eh beccati questo Finalmente Addio Ce l'abbiamo fatta ragazzi Neanche in Super Saiyan 3 Oh Si è ripreso In questo caso Ripartire da zero Cosa 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 Ha Ha modificato Il passato Va bene ragazzi Direi che per questo episodio Di Dragon Ball Xenoverse 2 È tutto Abbiamo Visto il nostro povero eroe Scomparire Ma di sicuro Scopriremo cosa Cosa gli sarà successo Nei prossimi episodi Come sempre Se il video vi è piaciuto Lasciate un bel mi piace Commentate E iscrivetevi E noi ci vediamo Al prossimo episodio Ciao a tutti ragazzi Grazie a tutti Grazie a tutti.